Direi che è uno sport completo. Bene, il prossimo. Atterrare bene. Salto in lungo, corsa, salto in alto. I pantaloni sono indispensabili per questa lotta. Lancio della pietra. Ci vogliono sicuramente velocità e agilità. Lottare. Esercizi liberi e sollevamento pietra. Iniziate dal basso. Tenete sempre gli occhi sulla pietra. Una pietra da sette e mezzo, uno da otto, uno da dieci, uno da dodici. Per ora ne sollevo uno da quattro. Misurarsi con l'avversario, uno contro uno, lottare. E la squadra. Mi piace incontrare i compagni di squadra due volte alla settimana, provare le prese o semplicemente lottare. Si lotta nella segatura, con i pantaloni di juta. Bisogna conoscere almeno un po' come funziona una leva. Si lotta uno contro l'altro. Bisogna essere leali. Naturalmente c'è lo spirito di competizione, ma c'è soprattutto un enorme rispetto in questo sport. Resistenza. Non è uno sport per femminucce. Mantenere la presa e provare a mettere l'avversario al tappeto. Tradizione. Ancora un po' con la testa. A destra. Procurate. Attacchi ai fianchi. Forse lo chassé. Alla festa federale c'è sempre un cavallo da vincere. Un culetto. Ognuno per se stesso. Intensità. Tecnica. Dipende dall'avversario, dal suo peso, dalla situazione. Dal tipo di lottatore. Ognuno combatte a modo suo. Il divertimento. Il divertimento.